I Looney Toons presentano Parliamo di Sport con Bugs Bunny! Che succede amico? Benvenuti allo show! Oggi abbiamo un ospite speciale con noi, un vincitore della medaglia d'oro alle Olimpiadi! Ciao Bugs! Cominciamo con un po' di domande Looney, va bene? Qual è l'ingrediente chiave del tuo successo? Ehm, dimmi la verità, sono le carote? Indubbiamente, le carote hanno fatto la differenza in tutto il mio percorso, Bugs! Sei un uccello mattiniero come Titti o preferisci dormire fino a tardi come il mio amico Silvestro? Direi che Silvestro è un fratellone, devo riposare, è importante! Sono completamente d'accordo! Parliamo del tuo regime di allenamento, com'è la tua giornata tipica? Sveglia tardi, appunto, sono coerente con quello che dico! Pranzo, dietetico, verdure, carote e poi il pomeriggio allenamento, 4-4 ore e mezzo di allenamento e seguono poi le terapie! Wow! Lascia che ti chieda una cosa, qual è lo sport che ami guardare? Chi è che non vede l'ora di vedere? La pallacanestro, indubbiamente, è il mio sport preferito e come sport di squadra devo dire che è il Team USA che si presenterà con una squadra pazzesca e non vede l'ora di vedere! Quando affronti una competizione, prediligi la forza come tasa oppure ti affidi più alla strategia come il sottoscritto? Di strategia ne ho sempre utilizzata poca, onestamente, nella mia gara. Quando vado in pedana tiro fuori tutte le energie che ho dentro, quindi direi più come tasa! Parli proprio come un campione! Quando non ti alleni o non partecipi a delle gare, quali sono i tuoi hobby preferiti? La mia vita gira tutto intorno allo sport, onestamente. Di hobby in questo momento ho poco spazio per averne. Oh, ma non mi dire! Sono appassionato di pallacanestro, che è un altro sport, adoro giocarlo e praticarlo, ma ho veramente poco tempo e poca possibilità di farlo. Che consiglio daresti a dei futuri campioni dello sport? Il consiglio che mi sento di dare è che la differenza si fa quando le cose non vanno bene, non quando tutto fila liscio, quindi di impegnarsi molto di più quando le cose non stanno andando. Wow! È questo lo spirito! Allora, dimmi un po'. Qual è il tuo personaggio preferito dei Looney Tunes e perché? Ma ti direi Duffy Duck, perché mi fa morire da ridere. Ehm, scelta interessante. Grazie amico, restate con noi per divertirvi ancora e ricordate, siate sempre Looney! I Looney Tunes presentano Parliamo di Sport con Bugs Bunny!